Ciao da Avsim! Juventus-Crotoni alle 20.45 di questo lunedì 22 febbraio in diretta su Sky. Dobbiamo vincere per forza, per forza, per forza. Non si scappa, la Roma ha pareggiato, il Milan ha perso, però poi ha vinto l'Atalanta, ha vinto la Lazio, naturalmente ha vinto l'Inter che è in fuga per lo scudetto. Se vinciamo, recuperiamo due punti alla Roma, tre punti al Milan, ci piazziamo al terzo posto a meno 8 dall'Inter con una partita ancora da recuperare, quella contro il Napoli. Quindi, discorsi di classifica a parte, non si possono lasciare altri punti contro il Crotone dopo la partita di andata, che ricorderete, pareggiamo 1-1 e fu proprio una delle partite dove la Juve buttò punti, ha buttato punti in questo campionato e ne stiamo ancora pagando le conseguenze. In questo video pre-Juventus-Crotone vi parlo di tutti i dettagli della partita, ma anche della conferenza stampa di Andrea Pillo di ieri, domenica 21 febbraio, che potete leggere sul mio sito avsim.video. Allora, passate in descrizione per il mio blog con approfondimenti, per il mio profilo Instagram, per Notizie Flash e per tutto il resto, ma soprattutto iscrivetevi al canale attivando le notifiche e non dimenticate che il mio post partita a Juventus-Crotone sarà in diretta, con chat aperta agli abbonati, subito dopo il fischio finale, quindi valutate anche i piani di abbonamento spiegati qui sotto. Una critica, una critica sferzante, devo fare, voglio fare, alla conferenza stampa di Andrea Pirlo e quindi ad Andrea Pirlo, perché la conferenza stampa di ieri pre-Juventus-Crotone è stata la peggiore che abbia fatto Pirlo da quando è alla Juventus, da quando è allenatore. E non perché si è discostata di poco come livello rispetto alle precedenti, ma perché è stata veramente una conferenza stampa pessima, in cui ci sono tantissime cose da poter dire a livello critico. Vado proprio con ordine. Poi parliamo anche della situazione di infortunati, su cui faccio un video a parte, ma intanto, come ben sapete, Di Bala accusa ancora dolore per l'infortunio al collaterale mediale del ginocchio e quindi non giocherà neanche oggi. E poi c'è la situazione di Artur, rispetto alla quale tutti brancolano nel buio, non si sa minimamente cosa abbia di preciso, o meglio, si è capita la diagnosi, ma non si sa come risolverlo, sta facendo delle terapie conservative, sperando, pregando, siamo affidati alla provvidenza che le cose vadano per il verso giusto. Ma Pirlo, innanzitutto, ha detto che il Crotone, nonostante sia l'ultima in classifica, ha sempre offerto il suo calcio senza discostarsi, nonostante i risultati, e quindi fa buon calcio e sarà per questo una partita ostica. Ma poi si è parlato tanto, forse anche troppo, della partita contro il Porto. E qui Pirlo non ha fatto il minimo di autocritica, e mi fa piacere che tanti lo abbiano sottolineato sui social, perché vuol dire che i tifosi della Juventus stanno notando come vanno certe cose, non ha fatto il minimo di autocritica per quelli che sono stati i suoi errori contro il Porto, ha scaricato più volte la responsabilità su determinati giocatori, ma ha anche palesato la sua inefficacia nel dare ai giocatori i giusti ritmi, i giusti dettami e la giusta sveglia lì dove serviva. Ha detto che è colpa di Bentancur per quell'errore, e poi doveva reagire perché non puoi fare un errore e poi perdere la lucidità per 90 minuti. Quindi lui lo sa che ha sbagliato, ne abbiamo parlato, ma poi deve reagire, ma poi deve continuare a fare le cose per il meglio, come se dipendesse solo dal singolo quello che fa nel campo. È stata anche colpa di Kulusevski, che non è riuscito a trovare la posizione in campo, oltre a non avere la buona lucidità fisica. Ma come fa a essere colpa di Kulusevski che non trova la posizione in campo? L'allenatore a cosa serve? E il fatto che Kulusevski sia fuori ruolo, lo stiamo dicendo da settimane. Non tiriamo sempre, quando arriviamo in zona goal, per le caratteristiche dei giocatori, perché a volte alcuni centrocampisti preferiscono passare. E anche qui, dove è la mano dell'allenatore? Cioè Pirlo, che cosa fa in settimana? Che cosa dice ai giocatori? Quando vi trovate lì, fate un po' come vi capita, seguite le vostre caratteristiche, seguite il cuore via col vento? Non capisco. Poi ha parlato con Agnelli, in particolare perché Agnelli era anche in Portogallo, ma di questo si confrontano e parlano continuamente, quindi non c'è stato uno sveglione da parte di Agnelli, non c'era bisogno di una strigliata, di uno scossone ai giocatori, anche perché quando perdi un ottavo di finale lo capisci da solo che cosa hai sbagliato, la Juve, i giocatori, soprattutto i ragazzi. Serviva a dare uno scossone ai ragazzi, secondo Pirlo, non anche a lui e allo staff, ma avevano già capito la gravità della situazione di aver giocato non da Juventus. Non sono preoccupato e non ero preoccupato perché abbiamo fatto 11 vittorie su 13 partite e soprattutto ci sono troppe partite con Pirlo che ha ripetuto scimmiottando le stesse identiche parole di Paratici alla vigilia della partita contro il Porto o forse alla vigilia della partita precedente contro il Napoli in campionato, cioè abbiamo fatto 15 partite in 40 giorni come fare un girone d'andata in un mese e mezzo. Le stesse identiche parole ripetuto Pirlo in conferenza stampa scimmiottando Paratici come se non fosse realmente convinto ma come se fossero appunto parole dettate. Ma il fatto che dobbiamo giocare ogni tre giorni cosa comporta rispetto ai passi falsi che stiamo facendo mi sembra una banale scusa. Torneremo a fare gol su punizione, Ronaldo si sta allenando molto, sta anche migliorando. Beh, voglio ben vedere, spero che cambino le cose da questo punto di vista. L'Inter non è attrezzata per lo scudetto, un'ora dopo l'Inter vince il derby e vola, cioè dichiarazioni fallimentari da parte di Pirlo che tra l'altro possono dare un grande slancio a Conte che uno che a livello emotivo lo sapete bene come lavora. L'Under 23 ci può dare una mano se ci sarà la necessità. Giocatori come Dragusin e Fagioli giocheranno, ma di questo vi parlo dopo nelle formazioni perché dire che serve la necessità per mettere in campo dei giovani è aberrante. Ma soprattutto ho alzato la voce nell'intervallo, siamo entrati in campo e i giocatori hanno avuto 10 secondi di blackout. E allora cosa hai alzato la voce a fare? E allora cosa sai fare? Nulla. Cioè alzi la voce nello spogliatore nell'intervallo e quelli vanno in campo e hanno 10 secondi di blackout e tu poi li giustifichi pure come se fosse una cosa... E vabbè mi sono capitati 10 secondi di blackout. Ma assurdo, ma assurdo, ma assurdo, ma veramente no. Quindi una conferenza stampa, quella di Pirlo che mi ha deluso tanto a livello comunicativo ma a livello contenutistico e proviamo allora a parlare di questo Juventus Crotone. Un Crotone che è vero, è ultimo in classifica, ma è vero, ha una sua proposta di calcio. Io l'ho visto giocare contro l'Inter, l'ho visto giocare anche contro il Milan. Non è una squadra che sa attaccare, però quando si riversa in avanti prova un po' a fare casino, prova a muovere un po' velocemente il pallone e ad inserirsi con i movimenti dei giocatori. Non è una squadra che sa attaccare con il terzo uomo, quindi vanno solitamente con uno o due uomini che cercano dei varchi per passarsi il pallone, però scappano frequentemente in zona centrale dentro l'area di rigore, quindi hanno questi tagli centrali abbastanza frequenti. Però per quanto riguarda l'impostazione partono normalmente con un gioco dalle fasce che solitamente si arresta sulla tre quarti per cercare appunto uno sbocco centrale. In fase difensiva sono spesso disastrosi, peggior difesa del campionato, perché prendono gol che non dovresti prendere in Serie A. Da questo punto di vista il crotone sembra condannato alla retrocessione, ma non è ancora detto, e con 12 punti di cui uno regalato da noi all'andata possono farsi forza di questo. Infatti Stroppa in conferenza stampa per le partite ha detto non è Andrea Mattorino per provare a fare punti, sperando di trovare la Juve in pessime condizioni. Bravo Stroppa, hai capito perfettamente com'è la situazione. D'altra parte, ma questo lo diciamo dopo, ci sono tanti disponibili per la Juve. Le statistiche del crotone. Tre punti nelle ultime cinque partite, cioè una vittoria e basta. 23 gol fatti, 52 subiti, peggior difesa, anche se dal punto di vista degli expected goals avrebbero meritato di subire solo 42 gol. Ecco, come vedete, tanti difetti difensivi, ma di segnarne solo 19 addirittura. Quindi sono stati anche più cinici del dovuto in attacco. Fanno però un buon pressing, hanno un numero PPDA di 11 a riaggredire e di 9 a subire la riaggressione. Quindi tengono abbastanza bene il pallone ed infatti sono sesti in campionato con 16 contrasti a partita, la Juve è undicesima con 15, mentre sono penultimi per intercetti, 10, la Juve è a metà classifica, nona con 13 intercetti. Poi vediamo le altre statistiche di who scored. Per il possesso palla il crotone non è per niente ultimo, metà classifica dodicesimo con 49%, la Juve è seconda con 57. Per i passaggi, metà classifica dodicesimo posto, 439, la Juve è prima con 589. Per la precisione, medio-bassa classifica, ma non bassa classifica, 80%, quindicesimo posto, la Juve è prima con 89. Mentre dove peccano sono i tiri, perché fanno 9 tiri totali e sono diciannovesimi, di cui 3 in porta e sono diciassettesimi, la Juve è 15 totali, terzo posto, di cui 6 in porta, terzo posto. E subisce il crotone, 14 tiri in media partita, sono sedicesimi, la Juve 11 e per questo è quinta. Ecco, come andò all'andata? Il crotone fece esattamente 3 tiri in porta, 10 tiri totali, 3 in porta, la Juve 11 tiri totali, 2 in porta, uno con Morata e uno con Portanova. E quindi capite che già all'andata abbiamo concesso troppo. Tra l'altro sono una squadra che subisce abbastanza da piazzato, ma noi non segniamo da piazzato, attaccano centralmente e tirano prevalentemente da fuori area e un po' da dentro l'area, ma non in area piccola, oltre che da prevalentemente in posizione centrale. Mentre subiscono tiri prevalentemente da posizione centrale e dentro la loro area di rigore e sono il terz'ultimo baricentro più basso, cioè sono la terza squadra con il baricentro più basso della Serie A. A questo punto passiamo agli indisponibili, al discorso di Dybala e degli infortunati, ma ripeto, di quello poi voglio parlare a parte in un video specifico, e quindi alle formazioni di questo Juventus crotone di stasera che può finire con un solo esito, solo esito deve finire con un solo esito, proprio l'enfasi, perché mi sto già innervosendo per questa partita di stasera, se non dovessi andare come devi andare, e devi andare che vinciamo, ma stra-vinciamo, perché non è possibile vincere con il crotone 1-0, 2-1, o neanche 2-0, e ne dobbiamo fare al minimo 3 gol, visto quante ne hanno subito il peggior attacco del campionato. Noi siamo il sesto attacco del campionato, ma ciò non giustifica che segniamo poco contro il crotone stasera. Pur con gli indisponibili, e questa è la seconda partita della stagione in cui Pirlo ha 6 giocatori out. Indovinate qual è stata? la prima e precedente partita in cui la Juve ha avuto out 6 giocatori. Esatto, proprio crotone e Juventus 1-1. Quindi, stesso copione, andiamo a buttare punti anche stasera, speriamo che non ci sia questa proprietà transitive, questa equivalenza, perché altrimenti siamo messi male. Il crotone rinuncia a Benali e Cuomo, infortunati, ma già da prima, non per questa partita, la Juventus ha fuori, Rabiot squalificato. Artur, in mano a Cristo, come disse una volta qualcuno, Bonucci e Chiellini, che dovrebbero rientrare per il porto, Quadrado, che dovrebbe rientrare un po' prima del 9 marzo col porto, e Di Bala, che ha ancora dolore, e non si sa esattamente quando potrebbe rientrare. Con tutti i discorsi su Di Bala, la malafede di alcuni tifosi su Di Bala, che, ripeto, collocò in un video a parte, ma qui dobbiamo parlare dei giovani, perché sono giorni e giorni che si parla, visto che si sa com'è la situazione del centrocampo della Juventus, di una possibile partenza da titolare di Niccolò Fagioli. Tra l'altro, con Bentancur, pure lui, che in settimana non è stato benissimo, ha detto dello stesso Pirlo, non un grosso problema, ma poi c'è anche Meccenni, che sta convivendo con un dolore all'anca, e siccome è un guerriero, stringe i denti, perché siamo corti, ha detto Pirlo, dopo che per un mese ha scimmiottato le parole di Paratici sul fatto che avevamo una rosa ampia e competitiva, allora mettetevi d'accordo, mettetevi d'accordo, perché andare con sei assenze contro il Crotone, con una formazione obbligata, è un disastro, a prescindere da come vada, e poi dobbiamo giocare sabato, e poi dobbiamo giocare martedì, e poi dobbiamo giocare sabato, e poi dobbiamo giocare martedì, e poi dobbiamo giocare non so quando. Quindi questa storia della rosa competitiva era una bagianata, ma si era capito, solo che è stata tirata avanti per tutto il mese di gennaio, con la situazione di bala ben nota, e non è stato preso un altro attaccante, ma neanche a centrocampo abbiamo lavorato, e io devo sentire da Pirlo, se ci sarà la necessità, faremo giocare Dragosini e Fagioli, ragazzi Fagioli l'altro giorno ha fatto 20 anni, allora se non lo ritenete forte, lo vendete, è inutile che lo aggregate alla prima squadra e ci prendete in giro, perché uno a 20 anni, se è forte in Serie A gioca, non sta lì, no è troppo giovane, è troppo giovane Fagioli, ma come è troppo giovane, ha 20 anni, non ne ha 17, anche solo se ne avesse 19, già andrebbe bene, se fosse un giocatore valido, per me è un giocatore valido, soprattutto contro il Crotone, ci mancherebbe, che non sia in grado di fare una partita migliore di Rabiot dell'ultimissimo Bentancur, ma anche di McKennie con un'anca sola, per non parlare di Ramsey, che manca da settimane, e dovrebbe fare il titolare al posto di Artur, dove non ci ha mai giocato, ridicola questa cosa, e qui siamo alla critica preventiva della formazione, sì, perché Fagioli lo pretendo titolare stasera, lo sapete che io questi discorsi non li favo, ma io stasera Fagioli lo pretendo titolare, non scherziamo, e non mi interessa se devono fare punti, ma i punti li fai con Fagioli, perché è il suo ruolo, lo sa fare, cioè deve giocare contro una squadra che l'anno prossimo probabilmente sarà in Serie B, non è in grado, vendetelo allora, se pensate che Fagioli a vent'anni non sia in grado di affrontare il Crotone facendoci fare punti, vendetelo, ma lo dovevate vendere già a gennaio, che cosa l'aggregate a fare la prima squadra? Che tra l'altro non era aggregato a settembre, si è aggregato a gennaio perché è stato venduto Portanova, che è un giocatore nettamente inferiore per qualità, secondo me, ma posso sbagliarmi, rispetto a Fagioli, quindi di che stiamo parlando? Allora, la formazione del Crotone, Kordaz, Gigi, Marrone, Golemic, Luluperto, voglio veramente vedere quanti gol riusciamo a sbagliare contro questa difesa, con tutto il rispetto, disastrosa, a centrocampo, Petriccione, Zanellato, Vulic e Messias in appoggio a Ounas e Di Carmine, o Messias e Ounas in appoggio a Di Carmine. La Juventus, importa Buffon, preannunciato, e ci sta che Buffon giochi anche talvolta in campionato con queste squadre minori, lo ha già fatto, non discuto. Chiesa, obbligati, Danilo, De Miral, De Ligt e Alexandro, ci sarebbe Dragosin, ci sarebbe Frabotta, e non lo so, forse ci sarà Di Pardo convocato come terzino destro, in alternativa, ma fondamentalmente questi siamo. A centrocampo, Chiesa a destra, e vorrei ben vedere il contrario, visto che quella è la sua posizione, e ringraziamo Federico Chiesa che ci sta salvando la stagione, che è l'unico che sta giocando, uno dei pochi che sta giocando con grande rendimento partita dopo partita, e non si sta mai facendo male, ma veramente incrociamo le dita. Poi appunto, Bentancur deve giocare per forza, l'interno chi sarà? Ramsey il regista al posto di Artur? O McKennie da interditore insieme a Bentancur con Ramsey a sinistra? Ramsey per me a sinistra va benissimo, e secondo me è una sua ottima collocazione, però se deve fare il regista partendo dopo settimane che non gioca, io sinceramente metto Fagioni, ripeto, lo pretendo. McKennie non sta bene, allora mettiamo Ramsey a sinistra, Fagioli al centro a posto di Artur, poi in attacco Kluzeski e Ronaldo, Kluzeski altro che non sta benissimo, Ronaldo che stiamo aspettando che si svegli, perché Morata con l'influenza che ha avuto di recente ancora non è al top, ma siamo corti, però lo si dice a febbraio che siamo corti, quando poi a gennaio invece avevamo la rosa competitiva, ma mi sono già nervositato abbastanza, potrebbe riservarmi ulteriore nervosismo alla partita, quindi mi fermo qui, vi rimando al video sugli infortunati che uscirà in giornata, e vi ringrazio per l'attenzione. Ditemi allora come la pensate nei commenti, pronostico, pretese anche vostre di formazione, like al video se vi è piaciuto, condividetelo con chi è interessato, a tutte le statistiche, a tutti i dettagli su Givento Scrotone, e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video. Ci vediamo molto presto, e sempre forza Juve!